Cominciamo a entrare nel merito della problematica della scienza dei dati concentrandoci su quelli che poco fa nella unità precedente abbiamo chiamato i big data. Ora, per cominciare ad affrontare l'argomento io vorrei prenderlo un po' la lontana e farvi vedere un bellissimo disegno che fu fatto nel 1962 da Bruno De Finetti. Io ho avuto la grande fortuna di poter conoscere Bruno De Finetti quando facevo lo studente universitario quindi negli anni, diciamo, circa all'inizio degli anni 70 e Bruno De Finetti aveva lavorato, diciamo, con la pubblica amministrazione italiana come statistico e in questo disegno lui ha voluto rappresentare quelli che erano i principali flussi informativi tra le diverse pubbliche amministrazioni centrali e i principali enti pubblici, come si usa dire, non economici come l'INPS, l'INSTAT e altri. L'INSTAT in particolare era l'Istituto Italiano di Statistica con cui De Finetti collaborò. Quella era l'epoca in cui, in sostanza, cominciavano a comparire i primi grandi calcolatori elettronici, i cosiddetti mainframe, e cominciavano ad essere utilizzati soprattutto nelle grandi pubbliche amministrazioni identi italiani come l'INPS, l'INA, il Ministero delle Finanze. Ora, però, in quell'epoca i dati venivano trasferiti o tramite grandi tabulati cartacei o tramite delle memorie di massa cosiddette a disco o a tamburo, di cui trovate traccia nella parte sinistra di questa figura, come appunto, diciamo, per rappresentare i dischi che venivano utilizzati per trasferire le informazioni. Da allora tutto è cambiato. Vi do soltanto due indicatori per cominciare ad affrontare il problema dei big data. Ogni anno e mezzo i dati che sono scambiati sul web raddoppiano rispetto al periodo precedente. Il secondo indicatore molto significativo ci dice che nel 2025, e quindi tra non molto tempo, per ogni essere umano ci saranno circa mille sensori in quella che è chiamata l'Internet delle cose. Questa figura che adesso vedete, una figura tratta dal sito GoGlobe, mostra appunto diversi degli indicatori che dimostrano la grande crescita, diciamo, dei dati digitali che sono scambiati, diciamo, all'interno del web. Vedete, YouTube, per esempio, permette di trasferire circa 700.000 ore ogni 60 secondi di video e siete in grado di individuare da soli tutta una serie di altri indicatori. Ora, questo grande volume di dati digitali che viene scambiato è caratterizzato anche da una grande velocità con cui, diciamo, i dati vengono trasferiti e vengono acquisiti, diciamo, all'interno dei calcolatori, degli strumenti di calcolo, e, come vedremo meglio, tra non molto, anche da una grande varietà di rappresentazioni. Possiamo dire che le tre coordinate, diciamo, dello spazio dei dati digitali sono l'ampiezza della realtà osservata. Qui noi vediamo un esempio del sequenziamento del genoma umano. Per ampiezza della realtà osservata intendiamo il numero di esseri umani per cui il genoma è stato fino ad ora sequenziato, che tende sempre di più ad ampliarsi. La seconda dimensione è la profondità nella conoscenza della realtà osservata, mentre per gli esseri umani fino a pochi anni fa si conoscevano soltanto, diciamo, alcuni parametri fisici generali di funzionamento del corpo umano e della mente umana, adesso, col sequenziamento del genoma, la conoscenza del corpo umano è una conoscenza che è diventata, diciamo, sempre più dettagliata, permettendo la creazione di una nuova disciplina, che è la cosiddetta medicina di precisione, che permette adesso di personalizzare, diciamo, le cure e le medicine a quella che è la situazione del singolo essere umano. E una terza dimensione è il tempo. Noi cambiamo nel corso del tempo, il mondo cambia nel corso del tempo e questi dati digitali ci permettono, appunto, di seguire l'evoluzione temporale di molti fenomeni. Ora, come avviene questo processo di trasformazione della realtà sensibile in quelli che sono, appunto, i dati digitali, che poi vengono trasmessi, vengono elaborati, vengono comunicati e vengono memorizzati. Questa figura vuole mettere in evidenza questo processo, che chiameremo nel seguito processo di rappresentazione. Quindi supponiamo che noi stiamo guardando un bellissimo tramonto, o al mare o in montagna, vogliamo fissare, diciamo, le sensazioni, le emozioni che ci trasmette questo tramonto, possiamo farlo mandando un messaggio Whatsapp oppure facendo una foto, oppure inviando una foto tramite un messaggio Whatsapp. In tutti e tre i casi, noi trasformiamo una rappresentazione sensibile del mondo in un insieme di dati digitali. E questo processo di rappresentazione dipende molto da quelle che sono le strutture linguistiche oppure basate sui sensi che noi, diciamo, attiviamo nel momento in cui trasferiamo la realtà sensibile in dati digitali. Nel caso del messaggio, evidentemente, utilizziamo una struttura linguistica. Nel caso dell'immagine, noi utilizziamo una struttura basata sul senso della vista. Ora, quali sono le grandi tecnologie che hanno, il cui sviluppo ha permesso, diciamo così, questo grande fenomeno dei big data, questa crescita, diciamo così, sempre maggiore, sempre più ampia della parte del mondo rappresentata attraverso dati digitali? Queste tecnologie sono cinque. A parte la tecnologia dei big data che continueremo ad analizzare nelle prossime unità, vedete, le altre quattro grandi tecnologie sono l'internet delle cose, cioè l'insieme sempre più ampio dei sensori che sono associati ai fenomeni, che sono associati agli oggetti della realtà e che permettono, appunto, di acquisire informazioni sulla realtà sensibile in cui noi viviamo, sono il mobile computing, cioè sono i nostri telefoni digitali che permettono di restare cornessi, purché ci sia ovviamente una rete di trasmissione, sempre e ovunque, permettono di georeferenziare la nostra posizione, ci permettono di avere a disposizione una quantità enorme di servizi attraverso quelle che sono le app, le applicazioni digitali, sono i social media, social media che si stanno diffondendo ormai in tutta la popolazione del mondo e che, diciamo, basano, appunto, questa grande diffusione sul fatto che sono molto semplici da utilizzare. Il comando che più viene selezionato, per esempio, in Facebook è il comando di like. È molto semplice riuscire a capire, diciamo così, come comunicare attraverso social media. Ed, infine, la tecnologia del cloud computing, diciamo, sparsi nel mondo, per esempio, per gestire le vendite di Amazon o di altri, diciamo, provider, ci sono una quantità enorme di calcolatori, una quantità enorme di memorie di massa che, appunto, permettono di memorizzare ed elaborare tutti i dati che sono utilizzati nel mondo per poter fornire servizi, per poter permetterci di acquistare beni e tutte le altre applicazioni che conoscete meglio di me. Ora, come si differenziano i dati digitali rispetto alle due grandi categorie di prodotti, diciamo, che sono diffuse nel mondo? Sto facendo riferimento ai beni da una parte, i beni che hanno una fisicità e ai servizi dall'altra. Un esempio di bene è, per esempio, un chilo di arance che noi andiamo a comprare al mercato. Le arance sono qualcosa di fisico che noi possiamo vedere, che noi possiamo toccare, che noi possiamo mangiare. E, invece, un servizio è, per esempio, un biglietto, è un posto per un viaggio aereo oppure per un viaggio in treno. Ecco, i dati sono differenti rispetto sia ai beni che rispetto ai servizi, nel senso che non hanno la fisicità dei beni, i dati sono molto meno facilmente rappresentabili attraverso una rappresentazione sensibile rispetto ai beni e, allo stesso tempo, non svaniscono come i servizi. Se un aereo parte vuoto, una volta che l'aereo è atterrato, quei servizi, quei posti vuoti non saranno più fruibili, diciamo, da parte di altri viaggiatori. I dati sono qualcosa di profondamente diverso rispetto alle due grandi categorie, chiamiamole merceologiche, e vedremo più avanti, nell'ambito di una delle prossime unità, che ciò ha creato un'economia di tipo completamente nuovo, l'economia digitale, l'economia dei dati digitali. grazie a tutti.